Martedì 6 febbraio 2018, 37esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dell'acquario. La chiesa ricorda Sant'Amando. L'onomastico. Oggi si festeggiano gli onomastici di Amando, Amanda, Geraldo, Geraldina, Gastone, Guerrino e Dorotea. Cognomi italiani. Il cognome di oggi è Coppola. È uno dei cognomi più diffusi al sud, soprattutto in Campania. L'origine è duplice. Può derivare da un antenato che vendeva cappelli, oppure dalla presenza di una coppa nello stemma araldico. Lo troviamo oltre che in Campania, in Puglia, Lazio, in Sicilia, anche con la variante Coppolino. E al nord in Lombardia, nelle restanti regioni è poco diffuso. Accadde oggi. Il 6 febbraio del 1952 Elisabetta II diventa regina del Regno Unito, alla morte del padre Re Giorgio VI. Chi è nato oggi? Tra i personaggi famosi nati oggi ricordiamo il cantante giamaicano Bob Marley, nato a Nine Mile il 6 febbraio 1945. La citazione da ricordare. Tu non sai mai quali risultati produrrà la tua azione, ma se non fai nulla, non ci saranno risultati. Mahatma Gandhi. Dice il saggio. Il forestiero. È forestiero solamente un giorno. Proverbio delle isole Hawaii. Un consiglio al giorno. Volete stendere il bucato all'aperto, ma è ancora troppo freddo? Per evitare che i vestiti si gelino durante la notte, sarà sufficiente aggiungere al risciacquo due o tre pugni di sale grosso.